Allora noi vogliamo porci nella via di mezzo, vogliamo assicurare un cambiamento, però su una barca noi ci dobbiamo mettere tutti, noi abbiamo bisogno di voi per cambiare. E voglio concludere con una citazione di John Kennedy che diceva io non vi dico come voglio fare i grandi tramonti, ma vi dico come insieme a voi voglio fare i grandi tramonti. Quindi consentitevi di dire un'ultima cosa, consentitevi di dire abbiamo bisogno di quell'energia che io sentivo quando sono salito su questo balcone e sento ancora adesso perché sento una pelle che si sta, sento una pelle d'oca, ho bisogno del vostro apporto, del vostro voto, ho bisogno che il 25 di maggio ci sia un'onda, un'onda d'urto, spinta da voi, da tutti quanti, perché il cambiamento inizierà dal giorno 26, noi insieme a voi. Grazie.